Tutta la rosa è tornata a disposizione di mister Arnaldo Franzini che oggi ha incontrato la stampa per analizzare la partita di domani al Garilli con la Bustese. La Bustese è una squadra che nelle ultime tre partite ha battuto l'eco in vero 1 e ha subito il gol del pareggio al 92esimo nell'altra partita con la Caratese. Una squadra in grande condizione, in grande fiducia, gioca insieme da anni. E' un po' la copia della Varesina, forse con qualità migliore, soprattutto nel reparto offensivo a giocatori importanti e quindi come tutte le partite ci sarà da lottare, ci sarà da soffrire. Sembra archiviata la sconfitta infrasettimanale di mercoledì con la Varesina. Credo che sia stata una giornata storta da parte di tutti noi, tutto il gruppo, dall'allenatore ai giocatori e questo ha influito sulla prestazione sicuramente che non c'è stata. Non c'è stata e poi il risultato è giusto che sia avvenuto in questo modo, anche se poi alla fine non abbiamo subito praticamente niente per tutto il resto della partita. Abbiamo tenuto il palino del gioco ma siamo stati poco pericolosi, per cui la Varesina non ha rubato niente e dobbiamo ripartire subito.